Ariete, la settimana si presenta all'insegna di una certa discontinuità. Oggi potrebbero verificarsi momenti di crisi nei rapporti sentimentali già da tempo collaudati, ma anche nel settore delle amicizie qualche incomprensione potrebbe improvvisamente costringervi a mettervi in discussione. Toro, qualche piccolo dubbio sarà finalmente risolto permettendovi così una più tranquilla panoramica della vostra attuale condizione. Nel corso di questa giornata la situazione sentimentale sarà a dir poco rosea, permettendovi ulteriori sviluppi e progetti di vacanze a due. Gemelli, sarete dotati di una buona carica di energia oggi, che vi accompagnerà poi per tutta la settimana. Anche l'umore è molto alto e potete stare tranquilli perché non cederà il passo a momenti di tristezza. Il vostro ottimismo e la vostra serenità vi porteranno a ricevere inviti piacevoli e a fare nuovi incontri. Cancro, meglio lasciare trascorrere la giornata senza prendere iniziative di nessun tipo. Siete in una posizione nei confronti della vita tutt'altro che ottimistica. Vi ritroverete spesso a rimuginare su cose del passato, accusando voi ed altri per scelte non fatte o che si sono rivelate sbagliate. Leone, se riuscirete a tenere a freno la vostra esigenza di dire sempre voi l'ultima parola, la giornata si presenterà ricca di successi e di conferme di simpatia. Ci saranno opportunità per ampliare il vostro giro d'amicizie, sia nel campo professionale che in quello più intimo. Vergine, il pessimismo sarà in agguato nel corso di tutta la settimana e dovrete mettercela proprio tutta per vivere in maniera positiva. Oggi cercate di allacciare nuove amicizie che vi possano essere da stimolo per i vostri futuri incontri. Altrimenti darete tutto per scontato, anche il vedere nero. Bilancia, nel corso della giornata dovrete fare molta attenzione alle esagerazioni di ogni tipo. La vostra forma fisica non vi permetterà sforzi prolungati e potreste essere soggetti a crampi muscolari. Trovate il tempo per fare lunghe passeggiate tranquille. Scorpione, state andando incontro a giornate che vi vedranno pieni di grinta, costruttiva e di voglia di realizzare nuovi progetti. Idee tante e tutto è molto chiare. La fortuna è dalla vostra parte. Il vostro atteggiamento sarà particolarmente scansonato e vi procurerà notevoli consensi. Sagittario, cercate di vincere lo stress che nel corso della giornata andrete ad accumulare, riposando qualche ora in più e rimandando gli impegni più gravosi ad altri momenti. Una giornata da trascorrere all'aria aperta potrebbe ristabilire l'equilibrio e ridarvi più fiducia in voi stessi. Capricorno, entrate in una fase piuttosto difficile, in cui potreste tranquillamente cancellare dal vostro vocabolario personale le parole dinamismo e ottimismo. Questo per farvi comprendere che, se anche le cose non evolvono come vorreste, si tratta di un momento transitorio. Acquario, la giornata inizierà con una partenza molto positiva. Una bella notizia potrebbe giungervi a sorpresa, dandovi una nota d'entusiasmo in più a quella che già avete. Sarà una giornata adatta soprattutto agli incontri amichevoli e alla ripresa di vecchi rapporti. Pesci, sfruttate al massimo l'inizio di questa giornata, che vi vedrà carichi di energia fisica e pieni di fiducia nelle vostre capacità. Dopo potrebbe subrentrare un pochino di stanchezza e pur mantenendosi una fase per voi positiva, potrebbe verificarsi un lieve stato di stress.